Crede tantissimo nel rapporto con il territorio, per noi è un valore importante ed è per questo che abbiamo voluto realizzare questa terza edizione. Crede tantissimo nel rapporto con il territorio. Crede tantissimo nel rapporto con il territorio, per noi è un valore importante per noi. Crede tantissimo nel rapporto con il territorio, per noi è un valore importante, per noi è un valore importante, per noi è un valore importante. Grazie. Grazie. Grazie.